Musica Grazie Grazie Grazie, ce ne siamo già fatti Stavattina presto Un pensierino I tuoi autori mi hanno detto Guarda che tutti porteranno un regalo Ma no, aspetta, da mo' che te l'avevo fatto il regalo Mica c'avevo bisogno che gli autori me lo ricordassero Ma gli autori hanno detto un regalo Ma non è elegante Se vuoi è il compleanno di Mara E che non lo so che è il compleanno di Mara Ma non è elegante sta cosa autori Lo sa tutta Italia Ok, ma non è elegante Sì, sì, portate il regalo Anche i prossimi che peggono A te, tanti auguri A te Tanti auguri A Mara Tanti auguri O non è elegante Cos'è anche nonna Mara, no? No, non c'è niente Il regalo più bello che tu mi potessi fare È la mia vita Lo metto da parte Scusate perché Oggi poi Io non so perché voi Ma io il giorno del mio compleanno Mi viene sempre da piangere A me pure Per l'età che passa Perché A me pure mi viene da piangere Per l'età che passa È l'età che passa Ma non solo No, per l'età Un anno in più Ma a me Guarda, a me dell'età ormai Ma che me frega Passati 50 Poi tutto il resto È una passeggiata Non ho più il problema No, invece ti devo dire Che le malinconie Sono proprio quelle Che Le persone che non ci sono più Le prime telefonate Alla mattina mia Era quella della mia mamma Che arrivava alle 7 Era la prima La mia a mezzanotte 01 Mi scrivi Ancora adesso Sempre Deve essere la prima Sta lì subito A scrivere il messaggio Ciao mamma Tesoro Anch'io saluto la tua mamma Io ieri sera Mi sono letta Tutto il tuo libro E come ti ho detto Stamattina molto presto Perché noi ci svegliamo Molto presto Tu facevi il ragù E ti ho detto Portami un po' di ragù Che magari Mi faccio un panino Insomma no La verità è che io ieri sera Ho voluto leggere il tuo libro Una mamma lo sa Ecco qua Esce Il 22 ottobre Sì E io non ho dormito Cioè nel senso che È un libro talmente forte E E chi è mamma Chi è nonna Cioè tutti quanti noi Quando tu Leggi determinate cose Non puoi fare a meno Di Di non riflettere Di non pensare Di non Di non mettersi anche Nei tuoi panni Ecco io ti voglio dire Che sei una grande mamma Grazie E come tutti Ti chiamano Mamma Elena Io ti chiamo Mamma Elena Perché Ce ne sono tante Di grandi mamme Te l'ho detto Anche l'anno scorso Io ho solo la fortuna Di essere un veicolo Un portavoce Per tante altre mamme Che non possono avere Questa voce Di parlare Sì perché Sicuramente Sicuramente tante altre Che affrontano Anche tante altre malattie Non solo quella Del tumore Perché poi in ospedale Siamo in tante Però Alla fine Vogliamo tutte Proteggere i nostri bambini Questo è il senso È l'obiettivo Di tutte noi mamme Di tutti anche i papà Perché poi Sì una mamma lo sa Ma ci sono anche i papà Che dietro soffrono In questo caso Tu hai parlato molto Anche di tuo marito E di come avete vissuto assieme Improvvisamente Come tutto può cambiare Come la vita cambia Io però Elena Prima di tutto Proprio per non dar modo Che qualcuno possa Eculicare E curare Esatto Voglio dire che Il ricavato di questo libro Andrà completamente Nel senso che Elena Non ha nessun interesse Economico Nei diritti Di questo libro Non ha interessi Economici A venire qui Ospite Sono senza conferma Allora è molto importante Chiarire questo Perché poi sai La gente stupida Purtroppo c'è Esiste Tu hai avuto Già una persona Che ha un dolore Così grande Come quello Che avete avuto voi Non può poi Subire la stupidità Di qualcuno Che attraverso I social Riescono anche A ferire ancora di più Per cui Abbiate un po' De rispetto Per me siete Delle persone Molto stupide Vogliamo dire A chi andrà Tutto questo ricavato Al progetto Io sono diventata Madrina Del progetto Il Di questa Ollus E il capo Progetto di questa Il È l'oncologa Di Giacomo La dottoressa Mastronuzzi Che opera Al bambino Nel reparto Di neuro Oncologia Pediatrica E quindi Ho abbracciato Questa associazione Come se stessi Abbracciando lei E tutti i ricercatori E tutte le persone Che hanno aiutato Il mio bambino E tutti quelli Che sono Nel bambino Allora Ho voluto chiarire Bene all'inizio Della vostra chiacchierata Tu sei stata A ospite mia A novembre Era il 4 novembre Se non sbaglio E Da allora Le cose sono cambiate Cominciamo con queste immagini A ospite The second someone Mention you are All alone I could feel The trouble Crossing Through your veins Now I know It's got a hold Just a phone call Left unanswered Had me sparking Now These cigarettes Won't stop me Wondering where You are Don't let go Sì Questa canzone la conosci molto bene La conosco molto bene perché quando il 6 dicembre Giacomo è stato operato è stato un intervento molto lungo di 14 ore e un po' l'ho passata anche con la musica nelle orecchie e quindi una delle canzoni che mi sono capitate a caso quando metti la musica così è stata questa e non credo sia stato un caso perché la canzone dice I will leave the light on, cioè lascerò la luce accesa quindi in un momento di buio veramente totale dove ho pregato tanto, dove mi sono aggrappata a qualsiasi cosa ecco ho pensato che questa canzone non fosse... Fosse un segno? Sì, fosse un segno, l'avrò riascoltata penso... Fosse una luce davvero? Sì, 30, 40 volte credimi Come sei stata in quelle 14 ore? Avevo preso delle gocce per tranquillizzarmi e non mi vergogno di dirtelo anche perché venivo dai 5 giorni precedenti senza aver mangiato e senza aver dormito e quindi ero molto 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 stanca e comunque ho consegnato mio figlio in sala operatoria come fanno quasi tutte le mamme però alla fine non sapevo se lo avrei rivisto e come sarebbe uscito fuori dalla sala operatoria La verità è questa nel senso che firmiamo un sacco di fogli un sacco di fogli ti fanno firmare con tante cose che ti vengono dette può succedere questo, questo e quest'altro e ti rimbombano nel cervello È un intervento molto a rischio Ma soprattutto in quel momento lui ti ha detto mamma ho paura per la prima volta lui ha visto te nel libro tu lo racconti Lui mi ha detto nella sala d'attesa si sento qualcosa sotto nella sala d'attesa in sala operatoria prima di entrare proprio nella sala operatoria c'è un'altra sala d'attesa con altre mamme che devono fare altri interventi e quindi vengono mandate in altre sale operatorie e lui mi ha tirato giù dal braccio e mi ha detto mamma ma io posso morire con questo intervento e io non lo so perché non avevamo mai parlato di questo e gli ho detto ma Giacomo no ma che stai dicendo l'intervento dura un'ora sarà velocissimo ti tolgono questa bolla perché all'inizio avevamo parlato di una bolla poi ci siamo arrivati gradualmente ma una cavolata davvero solo che poi non ti risveglierai con mamma accanto perché ti porteranno poi in terapia intensiva una stanza insomma un po' particolare e poi lui dopo qualche mese mi ha detto mamma ma io lo sapevo che tu avevi paura e ho detto ma come mamma mamma non aveva paura ma sì mamma ti tremava il labbro e avevi le mani tutte sudate e bagnate e quindi ho detto che lì ho pensato che non si può proprio nascondere nulla per quanto io abbia sorriso però mio figlio ha percepito veramente il terrore e la paura nei miei occhi e nei miei gesti perché hai deciso di raccontare tutto nel tuo libro Elena perché ci vuole molto coraggio molto molta forza ci sono due motivi fondamentali uno è perché in questo modo con il ricavato posso aiutare la ricerca il progetto IL e quindi anche l'ospedale e l'altro perché avevo bisogno anche di far capire a tante persone cosa avessi provato anche nei confronti di quegli haters che mi hanno giudicato con tanta facilità e in malo modo puntandomi il dito contro pensando che fosse tutto certo questa va a ridere sorride cammina fa, lavora fa la modella poi torna a casa va in televisione ma quella è la second life la vera vita è questa che hai letto nel libro faccio vedere la tua reazione quando a casa ti è arrivata la prima copia l'hai pubblicato tu su Instagram è arrivato questo pacco a casa sono molto emozionata perché è la prima copia del libro che mi ha mandato che hanno un dolore forse perché mi ha costato veramente di molta fatica di percorrere questa storia e spero di di dare veramente una botta di speranza a tanti genitori e a tante altre famiglie perché l'ho scritto con il cuore e con le latine e soprattutto l'obiettivo è veramente bello di questo libro quindi spero che mi piaccia adesso andiamo devo andare in pubblicità e poi riprendiamo voglio solo dirti una cosa a novembre eri molto più forte tra virgolette adesso evidentemente che le cose vanno bene le difese sono crollate e finalmente e fai piangi fregatene mandali a se può dire no a quel paese ma tanto se questi diamo in pubblicità prima che dico la parolaccia poi mi licenziano capisci tra poco arriviamo cara Mara carissima Mara ti faccio moltissimi auguri di ogni bene e felicità e con amicizia ciao Mara sono Mika sono qui in promozione in viaggio e volevo solamente mandare questo piccolo messaggio per darti tutti gli auguri con tutto il mio cuore buon compleanno noi ci siamo conosciuti poco tempo fa però è stato molto intenso la tua accoglienza è stata di una forza molto rara mi sono sentito bene e dunque ho potuto parlare liberamente sei molto brava sei una donna forte in controllo di quello che stai facendo e questo è una cosa molto molto bella da vedere da lontano e anche di avere come esperienza come l'ultima volta che sono stato a Domenica Inn grazie ancora divertiti c'è un sacco di persone che ti vogliono bene e forza forza zia auguri ma grazie 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 che carino che se ne frega del domani stanotte a casa non ci tornerà oh domani pensaci domani grazie amica grazie amica allora Elena stavo dicendo che a novembre eri molto forte perché tu avevi una battaglia da affrontare adesso che la battaglia è stata affrontata che le cose vanno molto 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 meglio è chiaro che le difese poi se ne vanno per cui come stai adesso diciamo che dormo molto meglio però la verità è che non dormirò mai più insomma serena al al cento per cento però sono felice di vedere Giacomo che sta recuperando veramente forze chili energie tutto e bambino un bambino meraviglioso un bambino meraviglioso davvero guarda mi sta guardando sì ciao amore allora ciao Giacomo mi sta guardando perché grandissimo la zia Mara ma non anche Greta anche Greta anche la piccolina certo che ha quanti anni adesso tre anni e mezzo sì sì che si è aggrappata prima a casa non andare a lavorare ti prego ma adesso mi guardi in televisione tu hai scritto nel libro che la tua forza te l'ha data lei anche lei quando tornavi a casa dormivi con lei te l'abbracciavi il suo odore il suo voltare pagina comunque torni dall'ospedale è difficile anche un po' staccare la spina e lasciare determinati pensieri però i bambini hanno una magia particolare quando apri la porta sai che allora era ancora piccolina due anni fa quindi correva col pannolino mi veniva mamma sei tornata non si rendeva conto di nulla sì no si è resa conto solo quando siamo andati a Trento per la radioterapia che siamo stati 40 giorni via quindi non tornavo spessissimo e ho deciso di non portarla perché non era sinceramente dovevo dedicare tutte le mie energie a Giacomo quindi l'ho lasciata con mia mamma e mio papà a Roma voi avete preso un appartamento lì avete avuto un vostro amico che aveva lasciato un appartamento un amico un cliente di mio cognato che non ha voluto veramente nulla ha detto queste sono le chiavi come se tu fossi a casa tua veramente ci sono state tante dimostrazioni a parte di amici persone che che si sono che sono state generose ma non parlo dal punto di vista economico beh anche con l'associazione sono stati senza chiedere nulla degli amici molto facoltosi che hanno donato senza dirmi nulla cioè mi hanno chiesto l'Iban dell'associazione e hanno fatto veramente delle grandissime donazioni e questo tutto grazie a te grazie a te quando Giacomo è stato bene voi avete deciso di fare un viaggio perché il suo sogno era quello di andare a New York e voi avete deciso di andare solo voi tre solo voi tre perché credo che era veramente importante questo il viaggio della malattia l'abbiamo fatto è vero che è un dolore che colpisce tutta la famiglia però il viaggio veramente l'abbiamo fatto io mio marito e Giacomo e quindi era giusto andare a festeggiare nel luogo dove Giacomo ci aveva chiesto di portarlo a New York e anche lì perché non hai portato tua figlia in realtà la spiegazione è che ma saranno anche cavoli vostri mamma mia ma che balle lo dico io ogni cosa e che bisogna fare sempre radiografie in una famiglia esatto e quindi siamo andati siamo partiti abbiamo organizzato tutto in fretta e furia e siamo partiti quando ti hanno detto che Giacomo il 10 maggio come? è la mia dottoressa cioè la mia dico la mia dottoressa perché ormai è la dottoressa di Giacomo l'oncologa di Giacomo Angela Mastronuzzi è la prima volta l'hai vista vestita con la felpa da orsetto io ho guardato mio marito gli ho detto ma dobbiamo lasciare Giacomo nelle mani di questa donna scusate però sono stata dimmi dimmi quando ti ha detto che con l'abito non fa il monaco poi alla fine esatto bravissima niente ero in tangenziale con la mia macchinina a fare 2500 cose come mio solito e ho visto Angela Mastronuzzi avevamo fatto tanti esami in giorni precedenti quindi sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questa domanda questa telefonata quindi mi sono accostata nella corsia di emergenza e lei mi ha detto Elena ti devo dire una cosa molto bella ho detto dimmi Giacomo è guarito non c'è più niente è in follow up il gergo medico follow up come significa? il gergo medico vuol dire che si interrompono le cure si interrompono le terapie che ha guarito quindi il follow up in inglese seguirà un momento dei controlli che c'è un po' per tutti quelli che hanno avuto un tumore però sai che non sono scoppiata a piangere in quel momento perché ero ero ferma non credevo sai quando ti aspetti questa telefonata la vivi nella tua testa perché sai che potrebbe arrivare però ti sembra veramente ma sto sognando è vero mi ha chiamato è andata così ho un video messaggio da parte di Angela della tua dottoressa della tua dottoressa ciao Elena sebbene tu vada sempre dicendo in giro che io mi vesta malissimo tipo orsacchiotto in effetti oggi sono istituzionalissima per te sono passati quasi due anni due anni nei quali ci siamo prese per mano tu sei entrata nel mio mondo nel nostro mondo io sono entrata con qualche difficoltà nel tuo due anni in cui abbiamo fatto insieme tanti progetti non soltanto per Giacomo ma per tutti i bambini malati di tumore cerebrale ti volevo ringraziare io sono sicura che tu continuerai così a fare del bene a te stessi a tutti noi perché soltanto dando si riceve tantissimo questo tu lo sai l'hai sperimentato con tante mamme con tanti bambini spero che questo sia soltanto l'inizio di una vita serena per te per Bernardo per Giacomo e per Greta e ti abbraccio forte e ci vediamo presto ciao ciao Angela ma è un'angelo questo è tutto tutto lo sta le fatine loro sono proprio degli angeli loro sono degli angeli lei si chiama Angela ma è un'angelo è la caposala delle Elsa Bianchini che è la caposala del dei hospital tutte le fatine tutte le infermiere le chiamiamo le fatine con le altre mamme perché sono veramente le altre mamme sì ho anche loro oddio da chi siete andati grazie Elena perché sei stata sempre un esempio di forza di tenacia e di ottimismo che ha portato a tutte noi mamme una ventata di positività ci vediamo presto ti voglio bene un bacio al piccolo principe ciao tesoro grazie Elena perché ci sei sempre nonostante tutto e sei la migliore amica e mamma di percorso che poteva capitarci è difficile spiegare chi è Elena Santarelli me lo chiedono sempre tutti e mi piace rispondere loro raccontando di quando i nostri bambini erano ancora in terapia specie di quando Lorenzo magari era sotto ricovero e tu magari eri stata dimessa con Jack da pochi giorni anziché stare a casa per un meritatissimo riposo alle otto del mattino eri già il reparto da noi per farci compagnia e per continuare a sostenerci con la colazione in mano non solo per noi ma per tutti i medici e gli infermieri del reparto il nostro meraviglioso reparto sei grande Elena sei una persona speciale e noi ti vogliamo un bene dell'anima ciao Gioia queste cose non le faccio vedere però mio marito quando mi vede uscire mi fa sei portato i cornetti in reparto ormai ti fa anche a Giacomo saluta mamma che sta tornando in ospedale senza di te ormai non puoi fare a meno guarda devo essere sincera da quando sono terminate le terapie di Giacomo vado in ospedale solo per lui in questo momento ho dato uno stop perché dovevo riprendermi prima io perché nel momento delle terapie mi sentivo wonder woman poi ho avuto un crollo assolutamente normale sto seguendo anche una terapia che si chiama IMDR che in teoria dovrebbe aiutarmi a metabolizzare il trauma e mi sta facendo bene e però sotto consiglio anche della dottoressa mi ha detto tornerai in reparto quando sarai anche tu guarita completamente quindi se devo donare devo stare bene anche io tu hai chiesto anche scusa Elena a un certo punto perché hai avuto tanti messaggi da parte di mamme che attraverso te vogliono naturalmente conoscere magari consigli medici posti ospedali specializzati e tu chiedi addirittura scusa perché ovviamente non puoi rispondere a tutti poi devi prenderti anche un momento per te perché poi alla fine si crolla veramente quello perché all'inizio avevo incominciato a rispondere anche su Instagram un po' a tutti non ce la puoi fare non ce la posso fare purtroppo non posso salvare tutti non sono un dottore però io ti parlo della salvezza emotiva psicologica però comunque trovo sempre il modo di salvare le richieste di esserci no di salvare le richieste ci sono persone che per me si occupano e possono rispondere sì perché in questo momento sono molto fragile non mi vergogne quindi se devo andare in ospedale non posso piangere con quelle mamme che stanno affrontando quello che ho affrontato io devo andarci con il sorriso e dare degli abbracci ma degli abbracci carichi di positività e non di lacrime chi ti chiamava zietta una ragazza ricoverata no? Erika è una mia concittadina è di latina e ci siamo conosciute casualmente al bambin Gesù però lei mi ha voluto chiamare zia sono felice ho un videomessaggio anche da Erika ah ma ecco perché ciao zietta non so che ti aspettavi questo video ma volevo ringraziarti per tutte le volte che sei riuscita a strapparmi un sorriso nei momenti di difficoltà e per tutti i miei desideri le mie voglie che hai espresso anche quando ti trovavi a lavoro come quando mi hai portato il gelato e il mecca alle 10 di sera e ringrazio infinitamente quel posto orribile dove ci siamo conosciuti perché in fondo in quei posti si creano amicizie vere come io con te ti voglio bene che carino che dolce Erika Erika aveva la leucemia ora è guarita ma una ragazza veramente veramente forte come ce ne sono tanti altri io l'ho vista sì a volte anche arrabbiata giustamente perché non si può essere felici ma era di essere ricoverati fare le cheme o il trapianto infatti lei dice quel posto orribile che orribile non è perché poi ti salva la vita però una ragazza di 16 15-16 anni non dovrebbe stare dovrebbe uscire con gli amici e divertirsi però nonostante ciò non ha mai perso quel sorriso ed è veramente una ragazza deliziosa senti Elena e invece con Bernardo con tuo marito i grandi dolori i grandi dolori a volte allontanano pensa sì a me è capitato nella mia vita tanti tanti anni fa un grande dolore mi ha allontanato dalla persona che amavo poi siamo ritornati insieme dopo un po' di mesi come l'avete vissuto voi? ci sono stati momenti anche guarda sì di tensione sì ma sono passati velocemente nel senso che alla base c'è proprio veramente un grande amore cioè io quando lo guardo la mattina o la sera quando vado a dormire veramente ringrazio Dio perché a parte è un uomo bellissimo che non guasta quindi dico grazie però anche il grazie essere grata per avere un uomo così gentile romantico affettuoso che c'è sempre tu sei stata gelosa di lui so che andavi a guardare i telefoni o gli armadi hai trovato le foto hai chiamato all'inizio gli ho detto no per questo l'hai portata a Montecano e lui ti ha detto ma tu sei quella che porterò in sala parto perché sarai la madre dei miei figli hai capito che dichiarazione d'amore e allora questo filmato è per voi stammi più vicino ora che ho paura perché in questa fretta tutto si consuma mai abbiamo voluto regalarvi questo filmare lui è molto riservato lui non ha i social non vuole apparire mai ma prima o poi dovrà sbarcare fa l'allenatore quindi gli ho detto ti devi fare ma perché è così riservato lui proprio timido questa cosa l'amo però devo dire ti piace già ci sono io in casa che insomma mi espongo tanto quindi Giacomo è identico al papà Greta è una bossona come la mamma tanto ah sì avete insistito beh perché volevo almeno un piccolo però la zia Mara doveva farlo no stasera me lo rimprovero Mara hai fatto bene sì e invece me l'ha fatto te l'ha fatto? sì vediamolo dai ciao amore so che ti farà strano vedermi su questo video messaggio perché forse nessuno mentre mi conosce sai quanto sia poco incline a questo tipo di cose perché sono una persona molto riservata però non potevo non farlo e ci sono due buonissimi motivi il primo è perché vorrei farti un grande bocca al lupo per l'uscita del libro che ci sarà domani a Milano e martedì a Roma che altro non è che l'ennesimo gesto di altruismo e generosità da parte di una persona da parte di una donna con la D maiuscola quale sei te anche se non sempre te lo dovrei dire un po' più spesso che nel momento della difficoltà maggiore ha trovato la forza e il coraggio di aiutare gli altri e quindi questo secondo me è una cosa da sottolineare che ti fa tanto onore e il secondo era per fare gli auguri alla zia Mara so che oggi è il suo compleanno quindi lo sforzo mio è stato doppio però spero che sia apprezzato sia da te e sia da Mara quindi niente ci vediamo a casa fra un paio d'ore ciao grazie 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 per gli auguri grazie hai visto che ci siamo riusciti brava Alessandra la mia autrice tesoro allora esce dopo domani mi pare o domani a Milano no domani ho la presentazione in galleria a Milano in galleria Rizzoli alle 18.30 è aperta quindi per chi volesse venire martedì la presenta a Roma però lo troverete in tutte le librerie e martedì e allora io lo consiglio a tutti perché è un libro che certamente fa pensare fa riflettere soprattutto ti fa capire quelle che sono le cose importanti della vita grazie grazie guarda che vale sempre la mia promessa non te lo dimenticare la cena e quell'altra cosa sì Elena Santarella grazie 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 esco da da Gino grazie grazie Elena